Valteria, approfitto di questo momento per chiederti di raccontarci qualcosa sulla tua partenza da solista e quindi ovviamente sullo scioglimento dei lost. Nel 2011 c'è stato questo scioglimento, una scelta voluta da tutti i componenti della band e quindi è stata comunque una divisione amichevole. Avevamo bisogno di nuovi spunti, di ritrovare un po' il contatto con la realtà e io l'ho fatto in questi due anni, in questi viaggi che ho fatto in tutta Europa, in tutto il mondo e dove ho conosciuto persone che mi hanno regalato nel bene o nel male delle emozioni molto molto forti.